Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video Oggi nuovo video di prodotti finiti e bocciati Che effettivamente era da un po' che non portavo sul canale E ne ho finiti veramente tantissimi Quindi mi metterei subito all'opera Abbiamo un po' di make up, un po' di corpo, un po' di skin care Veramente a suo giro abbiamo un sacco di cosine Partiamo subito con questo prodotto corpo Che è il bagno doccia di Aquolina al profumo Fragolina di Bosco Allora, io Aquolina lo amo da anni e anni e anni Fa sempre dei profumi super dolci, femminili che io adoro Ormai se da un po' che mi seguite sapete benissimo Che io adoro tutte queste profumazioni super dolci, super buone E appunto questo non è stato da meno Allora, un bagno doccia secondo me è un po' più d'elite Nel senso che non è il classico bagno doccia che trovi al supermercato A 1, 2, 3 euro massimo Però questa è proprio una chicca, secondo me è una coccola Che una persona si può fare perché vuole quel bagno doccia particolarmente profumato Io ammetto che di solito uso dei bagnoschiuma molto generici, molto blandi Non è mia abitudine spendere troppo nei bagno doccia Ma quando lo faccio veramente dico Ma perché non lo faccio sempre? Perché è meglio risparmiare su qualcosa? Però effettivamente mi è piaciuto tantissimo Allora, un profumo proprio di tipo le Big Bubble Quelle classiche che ci sono da tantissimi anni Che penso ci siano ancora Proprio sa di quello Cioè qua ho scritto fragolina di bosco Ma più che un fragolina di bosco Io lo sento proprio bello dolce con anche della panna all'interno Ed è un bagno doccia che dopo che ti sei lavata comunque continuo a profumare Secondo me questi bagno doccia sono top Cioè finché è bello anche dire l'experience del momento che senti il profumo Però è anche bello che ti rimanga sul corpo E mi piaceva anche l'effetto abbastanza delicato sulla pelle Nel senso che dopo mi sentivo anche quasi idratata proprio da lui E quindi niente, mi piace Cioè c'è anche tipo versione cioccolato bianco, cioccolato normale Mi sembra anche zucchero filato Mi ispirano un sacco tutte Magari piano piano le proverò Fatemi sapere se anche voi avete provato Io veramente questa qui ho adorato tantissimo Vogliamo anche parlare del packaging? Cioè per me è stupendo, bellissima veramente Sempre corpo passiamo ai provenzali Con quest'olio di mandorle dolci al profumo di muschio bianco Che è un trattamento per viso e corpo Anche se io per viso sinceramente non consiglio mai questi prodotti che sono viso e corpo Perché da buon amante della skin care io preferisco appunto cose apposite per il viso e basta Da qualche mese ho preso la buona abitudine di usare l'olio doccia post doccia Proprio dentro la doccia Quante volte ho detto doccia Avevo anche proprio trovato dei video che spiegavano Che praticamente l'ideale dell'olio corpo È metterlo subito che hai finito la doccia e sei ancora bagnata Perché così l'olio si assorbe prima insieme all'acqua C'è una roba, non so spiegarvela Io vi dico, mi sto trovando bene con questa tecnica Ammetto che a volte mi rivesto che ho ancora l'olio addosso Perché effettivamente non è che sia così super veloce come cosa Però ammetto che questo passaggio finale della doccia è come se fosse il bagno schiuma Nel senso che mi viene da farlo più volentieri rispetto all'uscire dalla doccia Asciugarmi e mettermi una crema corpo Cioè io nonostante posso passare mezz'ora a fare skin care sul viso senza problemi Io il corpo è una zona che veramente mi scoccia a star lì le ore a farci cose Quindi io cosa faccio? Così semplicemente finisco la doccia Mi spalmo molto velocemente l'olio di mandorle dolci Perché è anche l'ideale contro smaiature Queste cose se state dimagrendo Se non so siete incinte per esempio E non volete avere le smaiature dove avete la pancia O in generale sul corpo L'olio di mandorle in teoria è top per questa funzione Io non so dirvi più di tanto perché lo sto usando solo da poco effettivamente Questo olio non è male Cioè diciamo che gli oli per me bene o male sono tutti uguali Ne ho trovato uno su Amazon molto più conveniente Che mi sta durando molto perché ho preso un boccione abbastanza grosso Da 1-2 litri non mi ricordo Questo qui mi ha durato comunque tanto A 200 ml perché l'olio comunque è molto concentrato Non è che ne si mette troppo Questo poi va al profumo muschio bianco Quindi un buon profumo secondo me Non male lo trovate al supermercato Penso tipo anche da Tigota qui posti lì E l'ho pagato veramente pochissimo Partiamo con i bocciati Allora questo prodotto ve l'avevo già fatto vedere nel video dedicato a Cosme Cos Se non l'avete visto guardatelo Perché è un video secondo me molto interessante Perché ho proprio preso tutta la linea della coppia e l'ho recensita Questo è di ciringhito però l'avevo aggiunto Perché non ci sono almeno non mi è sembrato di trovare dei balsami labbra Questo qui nello specifico è il balsamo labbra esfoliante Esfoliante nel colore viola Questo qui lo boccio cioè come forse potete percepire l'ho usato pochissimo E voi direte beh lo boccio l'ho usato poco Sì raga perché è come veramente mettervi della ghiaia sulle labbra È stra irritante Fa male Cioè fa letteralmente male Appena lo utilizzi ancora ancora C'è proprio il primo passaggio Appena perdi lo strato super 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 superficiale Dopo i granelli sono talmente grossi Duri ma poi si secca Cioè è proprio secco Cioè tipo adesso guardate Io faccio così con prepotenza Tanta propotenza Veramente tanta Cioè mi ha lasciato pochissimo Cioè perché la sua funzione è quella di scrabbare così fisicamente Ma fa male E sinceramente cioè non mi viene la voglia Cioè mi devo torturare così sulle labbra Ma che senso ha? Ce ne sono di migliori sicuramente Adesso ne ho trovato uno che è anche low cost Quindi se è valido che L'ho provato e non sembra male Ve lo straconsiglierò Perché quello invece è super da mettere Questo no Cioè è un strabocciato Costerà tipo 1,50 euro Non lo so Ma non mi interessa Cioè per me va bene costar poco Ma devi anche funzionare Ad essere comunque piacevole come cosa Questa Cioè ti ammazza le labbra Cioè non so come altro dirlo Cioè tu stai lì Fa solo che male E poi neanche le sfoglia bene Cioè c'è anche da dire questo Poi passiamo al balsamo piedi Di Etera Cosmesi Che è un po' impolverato Poverino Vabbè E' che ce l'ho da un po' lì I prodotti Questo qui Mi è piaciuto tanto come prodotto Perché è proprio un balsamo Che si mette sul piede E ti fa proprio questa azione Emoliente Idratante Balsamica anche E mi piace un sacco Soprattutto se tipo Non lo so Avete avuto una giornata Che siete state tanto in piedi In generale avete i piedi doloranti Questo prodotto Vi veramente Rappacifica tutto Perché E' come se proprio c'è Non so I piedi se stanno bene Non so come dirlo L'unico problema è che anche qua Io i piedi Sono una cosa Che faccio fatica a ricordarmi costantemente Perché è una zona del corpo laggiù Che non ci faccio neanche caso E mi accorgo sempre del problema Quando tipo iniziano ad essere secchi Non so voi Ma sono onessa È così Però quando lo usavo con costanza Soprattutto all'inizio Perché magari io Ero in vista col prodotto Notavo che veramente i piedi Erano super morbidi Super soffici Cioè stavano i piedi Di una precipessa Vi assicuro Quindi che dire Se cercate un prodotto piedi Questo è top Anche perché Non costa tantissimo E se non sbaglio Ci sono anche tipo degli sconti Su Eteria Poi adesso vabbè Arriva il Black Friday Natale eccetera Quindi farà sicuramente sconti su sconti Quindi io vi consiglio Di segnarvelo Questo prodotto Perché è veramente top Poi passiamo a un prodotto make up Questo qua Di Too Faced È la Cipria Primed E Poreless Che ho usato un sacco di volte Anche insieme a voi Nei vari video E voi direte Sì ma non è proprio finita Perché ancora A parte che non so perché Qua c'è del Boh Forse col pennello sporco Non lo so Comunque Sì non è finito Anche se comunque c'è il buco Ma adesso vi spiego subito Il problema qual è Infatti questo non è Né un bocciato Né un finito Cioè non so spiegarvelo Allora Appena usata questa cipria Mi piaceva tantissimo Infatti mi sa che l'avevo detto Anche con voi Faceva proprio questo effetto Super liftante Mi piaceva veramente tanto Aveva un effetto Quasi filtro Ok Infatti si chiama proprio Primed E Poreless Cioè proprio ce l'aveva Questa cosa Il problema Non so perché Non so se ho sbagliato qualcosa io Anche se non credo Perché Boh Altre cipri Questa cosa non me l'hanno fatta Questa cipria dopo un po' Ha iniziato tipo a seccarsi Cioè non riuscivo più a prelevare il prodotto Cioè veramente facevo fatica Anche adesso se tipo io vado così prepotente con il dito Si un pochino ne esce Ma veramente poca Rispetto a quanto sto lì a grattare Sembra quasi che si asciughi Cioè che dopo non riesci più a prendere il prodotto E infatti Io andavo poi anche di prepotenza Però era proprio Cioè l'effetto ancora un po' Poreless ce l'ha Tipo adesso io un po' ce l'ho sul dito Questa sensazione Però è più secca E il problema qual è? È che dovrebbe durare 12 mesi Io sono sicura al 100% Che me l'ha fatto molto prima dei 12 mesi C'è da dire che a me le cipre durano una vita Io sono onesta sui trucchi Non sono brava come con la skin care Non guardo al dettaglio la scadenza Anche se ammetto che bisognerebbe iniziare a guardarci Perché effettivamente Anche se è make up Quindi non è un trattamento Va comunque sul viso Quindi è meglio sempre aver cose super top Senza prodotti scaduti eccetera Però questa io vi assicuro Che secondo me Questo problema non me l'ha fatto Dopo che era scaduta Cioè proprio dopo qualche mese che la usavo Poi la usavo tipo tutti i giorni Cioè non è che l'ho lasciata lì in un punto Basta Cioè non ti cago più Non lo so Ho iniziato a farmi questo problema E mi spiace perché era buona Cioè nel senso l'effetto che faceva era buono Anche se comunque vi devo dire la verità Adesso ho trovato delle ciprie Comunque ottime anche su quel punto di vista Soprattutto una E che quindi riesco anche a farne a meno di questa E poi c'è da dire che l'ho pagata Sui 30-40 euro Se non mi ricordo Comunque non costava poco Ammetto che ero stata comprata tanto dal pack Perché secondo me il pack è stupendo Molto ingombrante da portare in giro Un po' tommaggio forse Però carino Cioè lo apri Sembra proprio una cosa principesca Con lo specchietto Poi volendo qui dentro Ci metti il puff Adesso anche si tira più su Ecco qua Volendo ci si mette il puff Insomma Bel prodotto Bel packaging Too Faced a me piace tantissimo Però questa cipra non lo so Mi lascia un po' così Perché i primi mesi super top Poi per iniziare a seccarsi Non mi è piaciuto Riparliamo di piedi Perché ci piace No scherzo che però Ci li ho assi prodotti Allora Questa qui è un'altra Che mi lascia un po' così Adesso vi spiego Questa L'avevo fatta vedere anche su Instagram Perché ero stata tipo Stra entusiasta Di questo effetto Che aveva fatto Cioè era veramente bellissima Questa è una maschera a piedi Io non faccio spesso maschere a piedi Perché vabbè Comunque le maschere in tessuto costano Ok Però soprattutto i piedi Poveri Ne ho detto già prima È una zona che io un po' lascio stare Anche se Poverina Non so Merita Comunque Questa maschera a piedi A me è piaciuta tanto Infatti per quello l'avevo condivisa su Instagram Dato che è bello Finalmente Perché ero stata traumatizzata Da un'altra maschera Che invece Ciao Mi aveva dato tutt'altro che effetto Non so se l'ho già fatta vedere qui O devo farla ancora vedere Comunque Veramente orrendo E questa qua invece Mi aveva super idratato i piedi Mi aveva lasciato una sensazione fantastica Ha un costo super basso Tipo costa un euro e qualcosa Insomma Mi è piaciuta tantissimo Vi devo dire la verità Mi è piaciuta Questa la trovate su Style Levana E l'avevo comprata lì appunto Proprio molto a caso Ne ho anche un'altra di Style Levana Il problema qual è È che Informandomi bene Ci sono andata sul sito A leggere un po' Ho letto infatti anche qua Peeling Infatti questa Non so se vi ricordate O se in generale lo sapete Ma Anni fa Quando era il periodo Misakovi O comunque più o meno Era quel periodo lì Era andata a stravirale Una maschera a piedi Che adesso non mi ricordo Neanche chi era al brand Non l'ho mai provata È andata a stravirale Sta maschera a piedi Che praticamente tu la fai E dopo qualche giorno I tuoi piedi letteralmente Iniziano a fare Tipo una specie di muta Cioè proprio inizi a perdere Pezzi di pelle Che fa anche un po' senso E questa cosa Cioè ti esfolia tantissimo I piedi E dopo ce li hai stramorpidi Come se veramente Uscisse Non so la farfalla Dall'involucro Cioè vi giuro Proprio un effetto fantastico E questa in teoria Dovrebbe fare la stessa cosa Cioè questa dopo qualche giorno Avrebbe dovuto perdere Cioè avrebbe dovuto Farmi perdere Pezzetti Di pelle Dal piede Ma a me Non è successo Io Non l'ho notata Sta cosa Boh Cioè a meno che Non l'abbia persa E sia volatilizzata Nel nulla Non l'ho notata Questa cosa Quindi Non so se ho sbagliato Io ad usarla Ho fatto qualcosa Di sbagliato Sicuramente non lo so Forse dovrei riprovarla Però da quel punto di vista Non la provo Perché effettivamente Io questo effetto Non l'ho visto Questo effetto peeling Sono onesta Però l'effetto idratante immediato Che era quello che alla fine io volevo Cioè l'ho comprato in teoria Con questo scopo Non me l'ho neanche accorta Che era una maschera a piedi esfoliante Invece quello mi era piaciuto tanto Quindi che dire È un promosso È un bocciato Vedete voi Valutate voi Se per voi è un promosso È un bocciato Cioè per me è comunque promossa Perché per essere una maschera a piedi Non costa tanto Di solito costano tantissimo E non se ne trovano neanche molte di valide in giro Io le uniche valide Oltre a queste Poi ripeto Non ne ho provate molte Erano quelle tipo di Sephora Ma quelle di Sephora Comunque non costano neanche poco Cioè se non sbaglio Costano su 4-5 euro almeno Quindi a parte quelle Queste qui Sono top Costano molto meno Più della metà in meno Dovevo farmi il suo effetto peeling C'è da dire che Ci sono anche tante altre maschere Piedi di questo brand Quindi magari proverò anche altre Però per me non è stato così male Ecco Contour che non sarò troppo qua a parlare Perché mi sa che non è più rivendibile Cioè non lo rivendono più Quindi sto qua molto breve Perché non ha senso spenderci troppe parole Se non è più acquistabile Allora Questo qui è il contour stick di Sephora Nella colorazione 1 Claire Light Ovviamente Perché sono sempre la numero 1 Non la numero 1 In quel senso di onnipotenza Ma nel senso di colori Sono sempre quasi la 0-1 Quasi tutte le cose Comunque a parte questo piccolo Escursus Allora Questo prodotto A me è piaciuto veramente tanto Infatti sono molto scontenta Che non sia più reperibile Perché era un ottimo colore Allora Come potete forse vedere Non è né troppo freddo Ma neanche troppo caldo Cioè comunque è un freddo Che a me va bene Io dovete sapere Che pretendo prodotti super freddi Soprattutto per il contour Perché odio il contour caldo Io appena vedo il contour Che potrebbe essere leggermente caldo Mi infastidisco Perché non mi sta bene Non mi piace l'effetto su di me Non ho la carnagione Non ho la stagione armocromatica Quindi no Ok Questo prodotto andava bene Perché non è freddissimo Come quello tipo di Fenty che ho Ma non è neanche caldissimo Cioè proprio Mi piaceva Costa poco Costava Sui 10 euro Se non sbaglio Mi è durato una vita Raga Infatti si è anche tutto Sbiadito Perché mi è durato tantissimo Me lo sono portato in giro ovunque Probabilmente l'ho usato anche tante volte Con voi in video Perché è un prodotto Che ho amato tantissimo Si sfuma bene Si sfuma bene Ma al suo tempo si vede Cioè tipo quello di Fenty Si sfuma bene Però è anche molto 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 delicato Questo invece si vedeva Insomma Super top Ma mi sa che non è più acquistabile Quindi che dire Che bello Trovi un prodotto che ti piace Non lo fanno più Vorrei capire il motivo Probabilmente nessuno Se l'ha molto calcolato Questo prodotto Perché infatti non ne ho sentito parlare Di nessuno Di questi contour Ho visto inizialmente Che era sparito Quello illuminante Che anche quello non era male Però ho detto Vabbè tanto illuminante Non lo uso mai Ma questo è di scotch Che non c'è più Cioè Sefora Per favore Rimettilo Perché era veramente fantastico Cioè a me piaceva tanto Non capisco perché Non lo fanno più Vabbè Quindi niente Promossissimo Ma in me Non più acquistabile Poi passiamo Al contorno occhi Di Mulac Il Cherry Charge E Awake Allora intanto Packaging 10 Cioè veramente bellissimo Con questo opachino Sotto E questo Cioè veramente Secondo me Un packaging Fantastico Mulac Su queste cose Secondo me Ci azzecca sempre Allora il profumo Non mi ricordo Se va un profumo No Non mi ricordo Non sento particolarmente profumo Non credo Vabbè Allora Devo dire che questo contorno occhi Io l'ho comprato Perché ero molto in hype Cioè tutti Dicevano anche la fa tutte Quelli che ho visto Che lo usavano Dicevano Fantastico Bellissimo E danno ragione Ed hanno ragione È un contorno occhi Veramente molto idratante Vi dà un effetto Super Non luminoso Però Idratato Cioè anche proprio Eticamente Se per esempio Non vi truccate Mi piace come effetto È ottimo Sia da giorno Che da sera Perché secondo me È abbastanza idratante Per essere usato di sera Io di solito La sera uso cose Un po' più idratanti Rispetto al giorno Se per esempio Ho un contorno occhi Molto leggero Faccio finta Cerco sempre di usare lo stesso Ma se per esempio Ne ho uno molto leggero Non lo uso la sera Perché la sera Mi piace andare Giù strong Soprattutto adesso Che uso anche il retinolo Ho bisogno di una cosa Un po' idratante Che mi attutisca il retinolo Questo secondo me È fantastico Sia per il giorno Che per la sera Perché è molto idratante Perché è molto idratante Però comunque Non troppo da inficiare Diciamo La tenuta del make up Cioè proprio Mi piaceva tantissimo Mi distendeva l'occhiaia Mi faceva un bel Mi piaceva raga Cioè non so cos'altro dire Mi è piaciuta tanto Non ha un costo esagerato Se non sbaglio E in più comunque Mi è durata tanto Adesso di ml Ne ha 15 Come quasi tutti i contornocchi Però a me Mi è durato molto Perché essendo Anche un po' concentrato Poi c'è raga Di contornocchi Quanto ne volete usare C'è una punta Ok No mi è piaciuto tantissimo Cioè secondo me Se cercate un contornocchi Non troppo costoso Anche italiano Magari non so Volete reperire da pinalli Faccio finta Questo qui è top Mi è piaciuto molto Ve lo consiglio C'è anche scritto 92% di ingredienti naturali Io è una cosa che vabbè Non ci cuore più di tanto Però Niente Non so che altro dire Bella Top Mi è piaciuta Brava Sindino Altra veloce menzione A quest'altro contornocchi Anche questo mi è piaciuto Se devo fare un paragone A quello di Mulac Questo è più liquidino Quello invece è un po' più corposo Questo invece è un po' più liquidino Questo infatti è ottimo Secondo me è da usare il giorno La sera forse è un po' leggerino Però dipende dai gusti Perché dipende anche uno Che esigenze ha Cioè per esempio Che ha un contornocchi molto giovane Magari una ragazza che ha 16 anni Cioè ovviamente non è che deve avere Il muro di idratazione Quindi può essere top anche la sera Invece magari una persona adulta Che vuole lavorare su occhiaie, borse E' un po' blando per quello scopo Però per essere idratante lo è Quindi per mettere qualcosa su un contornocchi ci sta Mario Badesco è un brand di cui ho alcune cose Cioè sì mi piacciono anche Di altre ho cambiato idea nel corso degli anni Insomma è un brand un po' che non ho delle idee chiare Però questo prodotto mi è piaciuto Ha l'acido ialuronico Infatti si chiama ialuronica eye cream Perché se non sbaglio ha diversi contornocchi Io ho provato solo questo E per me è valido Pure questo mi è durato tanto Se non sbaglio anche lui ha 14 grammi Uno in meno Ma per me è valido Anche questo mi è piaciuto Più quello di Mulac Sono onesta Cioè questo mi è piaciuto Ma non è che mi ha fatto dire Wow la scopertona Cioè un contornocchi si fa la sua e basta Quello di Mulac invece è stata proprio una bella scoperta Che ho amato Veloce menzione a questo siero viso purificante Di Cosme Costella Cop Io intanto sto fondando giù Vabbè Comunque Di questo ve ne ho parlato sempre nel video Che vi ho detto prima Che vi ho parlato di tutta la Schinger Cosme Cost Quindi se volete più il dettaglio Vi consiglio di vedere quel video Sta di fatto che Per me è un siero molto soft Ha l'acido salicilico e niacinamide A mio parere Ho provato sieri, creme, cose con acido salicilico Che mi facessero vedere molto di più l'effetto Dell'acido salicilico Però fa il suo Cioè diciamo che secondo me è buono Per chi non vuole spendere tanto Per chi ha l'inizio Per chi appunto non ha mai provato Un siero con acido salicilico Vuole capire com'è Però Sì insomma Non Non è stato il miracolo Non è stato il miracolo Vi rimanda a quell'altro video Come vi ho detto Se volete più info Però sì In generale non è né un promosso né un bocciaccio Dipende dai punti di vista anche qua Cioè se cercate un prodotto tranquillo Non troppo invasivo Per voi è sicuramente promosso Se invece siete come me Che amate i sieri Comunque che abbiano un bel effetto È un no Schippatelo Evitatelo Stesso un po' concetto Con questa mousse di vive verde Detergente delicata Che vi devo dire la verità Questa qui l'ho comprata Perché ero tipo senza mousse a casa Io quando faccio la doppia detersione A volte mi è capitato di usare altre texture di detergenti Ma io come mi trovo bene con la mousse Con nessun'altra cosa Poi in generale è un tipo di detergente che amo E quindi avevo comprato questa Perché ero attratta dal pelli sensibile Detergente delicato eccetera Sinceramente secondo me ci sono detergenti molto più delicati Cioè ma questo mi sembra un detergente classico Io non ho una pelle sensibile Quindi non vi so dare il feedback Sul rapporto sensibilità di pelle Dopo che l'ho usato Sono onesta Però effettivamente Mi sembra una mousse molto normale Cioè allora per il prezzo che ha va bene È un po' il discorso, vi ripeto, del siero di prima Ha un prezzo buono C'è da dire che al momento sul mercato Ci sono tante mousse Anche con prezzi simili a questi A questo Che secondo me valgono molto di più Quindi non so prese consigliarvela Però fate finta Siete la cop, fate la spesa Avete finito la mousse come ho fatto io Ecco Se proprio dovete scegliere Questa va anche bene Però boh Secondo me c'è un po' di meglio Un bel po' di meglio Poi il prodotto make up Questo qua di Mesauda a Milano Ve l'ho già fatto vedere Non so quante volte Ma effettivamente l'ho comprato L'ho ricomprato L'ho usato e l'ho riusato Questo prodotto con l'acne Mi ha aiutato tantissimo Questo è il correttore One stroke Nel colore W20 Quello che uso io Purtroppo anche di questo Ho paura in me Che non ci sarà più di tanto da parlare Perché non lo so Il presentimento Che lo toglieranno dal mercato Io ho notato che anche Mesauda Fa questa cosa Che toglie spesso prodotti Almeno quello che intuisco A me sta cosa non piace Cioè non mi piace questa cosa Dei brand Che fan prodotti Soprattutto se piacciono A me non è Questo mi è piaciuto tantissimo E poi lo tolgo dal mercato Cioè perché Qual è lo scopo Anche Essence la fa sta roba Che fa dei prodotti Fa mille uscite all'anno E poi ogni tot Alcuni prodotti li toglie Non capisco Cioè piuttosto Secondo me sarebbe meglio Focalizzarsi di più Su certi prodotti Che poi comunque sono buoni Ripeto perché questo è buono E non stare a far mille uscite all'anno Cioè boh Spiegatemela voi Sta cosa la sapete Perché io non tollero Comunque Correttore super coprente Ma allo stesso tempo Non troppo gnocco sul viso Non troppo visibile E a me è piaciuto tanto Col periodo acne forte Mi ha aiutata tantissimo Perché mi aiutava tanto A appunto Non far vedere i brufoli Mi aiutava a coprirli Ha comunque una texture sul viso Molto confortevole Insomma Mi è piaciuto tanto Costo top Perché costa pochissimo Sui 10 euro mi sembra Vi dura tanto E a me forse anche di questo Non ne sentiremo più parlare Non lo so Io spero di sbagliarmi Spero di avere avuto Brutte Cioè Sbagliate impressioni Ma Boh Questo è quello che mi è arrivato Guardando in giro Sui siti di questo prodotto Che o è introvabile O è stra in sconto E quello che è finito Non lo restoccano Questo di solito vuol dire Che un prodotto Sta per dirci Ciao ciao Ultimo prodotto di oggi È questo Pixi Glow Tonic Anche questo Probabilmente ve l'ho già fatto vedere altre volte Ma semplicemente perché Io ogni anno Compro il calendario dell'avvento E questo è tipo Uno dei classici prodotti Da calendario dell'avvento Che ce lo mettono sempre dentro Che sia uno Che sia l'altro Io me lo ritrovo sempre da qualche parte Vedremo quest'anno insieme Se anche lì Appunto Le troveremo un altro Allora Questo qui è purtroppo Quello che probabilmente Mi ha causato La pelle asfittica Un anno fa Per il semplice fatto Che un anno fa Io non conoscevo molto bene Il mondo dell'esfoliazione chimica Io nell'ultimo anno Mi sono stra informata Su questo discorso E adesso tipo Io adoro solo L'esfoliazione chimica E gli scrub Li odio Il problema qual è? È che qui Il brand stesso Non spiega benissimo Perché sto provando A guardare anche dietro Che c'è scritto Come applicarlo Cioè in andato c'è scritto Use Cioè in inglese AM MPM Quindi vuol dire mattina e sera Cosa assolutamente sbagliata Perché ha il 5% Di acido glicolico Che non è poco Cioè come percentuale L'acido glicolico È fotosensibilizzante Quindi cosa vuol dire? Che se voi lo mettete Di giorno E uscite Il sole È come se vi Facesse il quintuplo Più male Di quello che Vi dovrebbe fare Perché appunto È fotosensibilizzante Rende la pelle più sensibile E Questa cosa A giorno mi piace Infatti io Non conoscendo Questo prodotto Ho Purtroppo Iniziato a usarlo Tipo tutti i giorni Costantemente Perché avevo mille brufoli E volevo mandarli via Tac Non è arrivata la pelle sfittica Però Quando ho iniziato A usarlo meglio Perché poi l'ho messo da parte L'ho riutilizzato In un secondo momento Mi è piaciuto Anche se comunque L'acido glicolico Lo consiglio di più A chi ha una pelle secca Piuttosto che una pelle Come la mia grassa Però Sì Ragazzi Mi raccomando Quando leggete Sfogliante cose Informatevi bene Perché a volte O è il brand Che non lo specifica bene O è il dermatologo Da cui siete seguiti Che non ve lo specifica Troppo bene Mi raccomando Informatevi Perché È dietro l'angolo Il danno Bene Io direi che per i video di oggi È tutto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Che così Ci aggiorniamo A vicenda Vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutte